Musica Ciao a tutti ragazzi sono Adventure Magic e oggi volevo parlarvi di Crash of Clans Allora lo so che oggi è stato, almeno non so quando pubblicherò questo video, forse domani Quindi non lo so, ieri forse, vabbè comunque è stato, è appena successo che Crash of Clans ha compiuto un anno E' stata una cosa grandiosa, oggi volevo parlarvi molto sinteticamente in modo che così magari Non tutti magari saltate il video eccetera così Perché c'è una cosa che mi ha fatto abbastanza arrabbiare Diciamo che come al solito io ho provato già che c'era il compleanno di Crash of Clans A fare un piccolo esperimento che tanto sapevo che andava a finire male Però diciamo che per, ciò voglio dire, per far felice qualcuno l'ho provato a fare Allora ho provato a fare questo esperimento, ho tolto a tutti gli anziani per qualche minuto Cioè almeno fino a quando ovviamente è successo il casino Ad un certo punto mi ha chiesto potresti farmi anziano Non vado a fare nome adesso ragazzi anche per rispetto degli altri eccetera No, non che siete sbagliati, ci sono persone che poverette si impegnano e le ringrazio molto Veramente, però non faccio nomi comunque per motivi di privacy, vabbè Detto questo, veramente guardate sembravo un asilo Tutti chiedevano, posso diventare anziano? Se non glielo davi tutti se ne andavano Cioè se ne andava a metà mondo Io non lo so ma dai però eh Cioè voglio dire, siete così tanto piccoli che Io dico a uno che può diventare anziano e se uno non diventa anziano se ne va via Cioè ma vi accorgete dove siamo arrivati? Per favore, per favore Ci sono veramente persone che si impegnano Che ci mettono veramente l'anima E ci sono persone che se voi non siete anziani se ne vanno Perché un è anziano e l'altro è anziano, se ne vanno Cioè io non posso fidare un attimo a mettere un anziano Che c'è, ci vuole il patatrack e tutti sono anziani Poi anche la cosa che sono poco online Mi dispiace veramente tanto ragazzi Però appena entro Purtroppo io faccio fatica perché mi travolgono di domande È giustissimo, capite? Però non tutti i giorni ho tempo di Magari entro però non mi faccio vedere Perché purtroppo mi dispiace tanto però Appena entro è bellissimo però mi travolgono di domande E non tutti i giorni ho tempo di stare lì tanto tempo Perché lo so che poi quando entro mi piace rispondere a tutti Vabbè se avete domande da porgermi Anche chiedetemele su Su Youtube Poi ovviamente vi risponderò un po' dopo Però io faccio ragazzi l'impossibile Mi dispiace, non posso esserci sempre Comunque le persone che Vedono in cashflow class Delle persone strane eccetera Mi avvisano via email eccetera Anche con Youtube e non solo con Game Center Così vi ricordo che sul Game Center Mi chiamo Adventure Magic e non Dani Corra Se volete diventare Se volete diventare mie amici del Game Center Avvisatemi voi in qualche modo Io ovviamente dovrò valutare Adesso oggi perché è la giornata di cashflow class Ho fatto qualche Diciamo che ho dato un po' subito ragione Però non succederà più Perché ho visto che veramente guardate Mi avete Veramente deluso in un modo esorbitante Ma tanto lo sapevo che andava a finire così Comunque ringrazio tutte le persone Che ci hanno messo l'anima Cosa posso dire Adesso in questi giorni Adesso questo video l'ho fatto così la sera Però in questi giorni Mi pubblico da dei video speciali Quindi seguitemi Ciao a tutti i ragazzi Anche con The Mausen L'ho preparato Comunque In qualsiasi caso Vi auguro un buon compleanno Di Cashflow Clans In anteprima Anche perché voglio farlo Nel prossimo video Comunque Ciao a tutti i ragazzi Al prossimo video Vlog di Cashflow Clans